Chi sostiene il terrorismo jihadista? Come ha fatto l'autoproclamato Stato islamico a ritagliarsi uno spazio così vasto nel panorama geopolitico internazionale e quali azioni sarebbero necessarie per contrastarlo efficacemente? Questi e molti altri interrogativi sono al centro dell'ultimo libro del giornalista Corrado Formigli, Il falso nemico, perché non sconfiggiamo il califato, presentato di recente al centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zuliano. Formigli, volto noto della televisione, anche perché conduttore della trasmissione Piazza Pulita della Sette, è stato il primo giornalista italiano a entrare nella Siriana Cobane durante l'assedio dello Stato islamico. Intanto per sconfiggerlo bisogna voler sconfiggere lo Stato islamico, cosa che non è accaduta finora. Lo Stato islamico ha dilagato perché si è permesso di farlo, perché alcune potenze che avrebbero dovuto contrastarlo hanno utilizzato lo Stato islamico per combattere altri nemici, per seguire i propri obiettivi, penso all'Arabia Saudita, penso alla Turchia, per lungo tempo. Oggi lo Stato islamico non è stato ancora sconfitto e io credo che anche se Mosul verrà conquistata, se le potenze che sono gli Stati Uniti d'America, la Russia, Putin, l'Unione Europea e le potenze regionali non saranno capaci di sedersi a un tavolo e sapere ognuno rinunciare a una parte delle proprie mire strategiche, non si riuscirà a sconfiggere. Quali sono gli indicatori sulle responsabilità anche europee? L'Europa non esiste sulla questione della guerra dello Stato islamico, l'Europa è assente dalle decisioni importanti. L'unico ruolo su cui l'Europa può giocare oggi è il tema dell'accoglienza, è il tema dei grandi flussi migratori, cioè giocare la nostra parte di fronte a queste enormi migrazioni che arrivano da quelle zone. E questo è il grande tema secondo me su cui l'Europa si deve misurare. Per quanto riguarda le scelte, la spartizione della Siria, il futuro dell'Iraq, mi pare che non ci sia oggi un'Europa come entità unica. Noi non abbiamo un rappresentante dell'Europa che possa sedersi al tavolo, non lo vedo. Oggi la questione, il futuro di quell'area geopolitica è affidata alle scelte di Vladimir Putin, probabilmente di Donald Trump e poi dell'Iran e della Turchia. Credo che siano questi i quattro grandi soggetti che decideranno il futuro di quell'area politica. Lei poi evidenzia un califatto nero sempre più motevole che conosce bene i meccanismi anche di comunicazione dell'Occidente. Senza un enorme apparato di propaganda l'ISIS non esisterebbe. L'ISIS è la sua propaganda e la propaganda dello Stato Islamico è una propaganda che utilizza i codici e i linguaggi occidentali. Utilizza il linguaggio del grande cinema americano, dei videogame, del marketing pubblicitario occidentale. D'altra parte tenete conto che l'ISIS è composta, i cervelli dell'ISIS spesso sono foreign fighter che hanno studiato, sono cresciuti o addirittura nati negli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna, in Europa, insomma. Come si spiega questo fascino che continua a esercitare l'ISIS? Beh, l'ISIS diciamo che promette uno Stato da un'utopia e da un orizzonte valoriale. Sono valori ovviamente folli, fanatici, assurdi, ma sono dei valori. Un quadro ideologico valoriale molto forte indirizzato ai confronti di persone che spesso magari nei luoghi da cui provengono sono dei drop out, persone che non hanno un futuro, non hanno un orizzonte, non hanno un inserimento sociale. Quindi ti promettono uno status di combattente, uno Stato a cui tornare e poi un grande progetto che è quello appunto di realizzare il Jihad. Adesso ovviamente in Italia si sta vedendo l'evolversi anche del rischio terrorismo, questi costanti attentati che possono colpire ovunque. Quindi lei che messaggio lancia in tal senso? Non possiamo vivere arroccati come se fossimo in guerra, non possiamo rinunciare alle nostre abitudini, non possiamo pensare di mettere i carri armati davanti alle scuole per proteggere i bambini. Dobbiamo lavorare a medio termine sull'integrazione, tantissimo. Per me la sicurezza parte dal tema dell'educazione e dell'integrazione. Io credo che i profughi di guerra, per esempio, coloro che scappano dalle zone della guerra, possono essere i nostri principali alleati in futuro per arginare il fenomeno del fondamentalismo e del terrorismo. Ha incontrato tantissime storie, ovviamente ha parlato anche della difficoltà di ricomporre i pezzi, non solo ovviamente delle dinamiche del Califato Nero, ma anche di trasmettere tutte queste storie di dolore, ma anche speranza probabilmente. Sì, perché se noi non riusciamo a riflettere sul dolore di queste persone, delle persone che sono state dilaniate dal terrorismo, se noi non riusciamo a conoscere le persone, le facce, le storie di queste persone, non riusciremo a combattere il terrorismo. Nel capire e comprendere in profondità la sofferenza degli altri, c'è non soltanto un dovere etico, c'è anche una necessità pratica. Quei mondi, i mondi colpiti dal terrorismo, le popolazioni del Medio Oriente, della Siria, dell'Iraq, sentono il cinismo dell'Occidente e questo cinismo e questa distanza nostra provoca rabbia, risentimento e costruisce futuro terrorismo. Quindi, diciamo, occuparsi della sofferenza degli altri, secondo me è anche un'assicurazione sulla nostra vita. Nel suo libro cita un pensiero, una frase particolare di Papa Francesco. Sì, che non ci sono le guerre di religioni, ci sono le guerre per la terra, per il denaro, per il potere. Non ci facciamo fregare da coloro che parlano troppo facilmente di scontro, di civiltà, di guerra, di religione. Dietro ogni guerra c'è un interesse molto più concreto, un interesse che ha a che fare con le armi, con il denaro, con le risorse energetiche. È lì che dobbiamo andare a cercare le cause delle guerre. Poi ricordiamoci un'altra cosa, che per quanto riguarda l'ISIS, il fenomeno dell'ISIS è innanzitutto un fenomeno che attraversa il mondo islamico, è una guerra all'interno del mondo dei musulmani. E ricordiamoci sempre che le prime vittime dell'ISIS sono i musulmani stessi. E abbiamo invitato Corrado Formigli perché lo si sente come un giornalista vero, un ricercatore della verità, mostrando la realtà così com'è, e appunto partendo dal dolore, dalle vittime, per raccontarci chiaramente chi è causa con causa di queste vittime e per accostarci a un'umanità dolente che possa aiutarci questo accostamento a guardare con occhi umani anche la nostra realtà e chi arriva fra di noi. I problemi certo sono complessi, però c'è sempre una partenza importante che è quella dell'essere umani, del restare umani nell'affrontare i problemi, oppure quello in partenza di diminuire questa umanità. Lei che spiegazioni si sta dando di quanto sta avvenendo, delle responsabilità, ma anche del fascino che continua a esercitare l'ISIS, anche sui molti adepti, diciamo così? Non è che sia esperto in questo, non vorrei dire cose parziali o addirittura non vere. Io anche leggendo il libro ho riavvertito la grande complessità di questa situazione. È una situazione proprio nell'intendimento di organizzare qualcosa di stabile, uno Stato con tanto di regola, di organizzazione, e chi finanzia tutto questo, di nuovo tornano le domande, chi li finanzia, quale responsabilità ci sono. La serata di questa sera, io credo, sarà un aiuto a capire qualcosa di più. Non termineranno qui le iniziative del Centro Balducci, sempre molto attivo nel far riflettere su tutti questi aspetti della contemporaneità. Si possono annunciare alcuni dei prossimi appuntamenti previsti? Il prossimo sarà la giornata della memoria, il 27 gennaio, e probabilmente è da definire ancora il 26, la presentazione di un libro sulla tortura, è il giorno dopo in cui si ricorda l'anniversario dell'uccisione, della sparizione di Giulio Regeni, che poi è stato trovato, come sappiamo, in modo davvero incredibile per quanta tortura ha subito. sul palco del Centro Balducci, lo scorso 11 gennaio, diciottesimo anniversario della morte di Fabrizio De Andrè, è salito invece Simone Cristicchi per lo spettacolo La Buona Novella, un omaggio allo scomparso cantautore genovese, nato da un'idea dei musicisti Walter Sivilotti e Giuseppe Tirelli. Nell'inedito monologo introduttivo proposto dall'artista romano, ispirato anche ai testi di Don Andrea Gallo e Don Pierluigi di Piazza, viene immaginato il ritorno sulla terra di Gesù, che si trova a vivere una quotidianità globalizzata e che finisce per essere inviato in un centro di identificazione ed espulsione. Sono tornato, sono tornato per dire a tutti gli uomini che Dio li ama, che Dio vi ama. Ma come in tutte le storie d'amore, forse si è solo preso una pausa di riflessione. Ho capito. Oh, ragazzi, lo vedete questo? Centro identificazione ed espulsione. Trattatevelo bene, però, questo capellone con la barba, eh? Abbiamo immaginato questo Gesù che viene accolto, tra virgolette, accolto in un centro di identificazione ed espulsione, quindi arriva con un barcone insieme ad altri profughi come lui e in questo pellegrinaggio nella modernità si imbatte in una nuova via crucis, che comprende il carcere, comprende il TSO, quindi la malattia mentale e così come vengono oggi trattati malati di mente, per finire poi tra i cartoni, come un barbone qualsiasi, in una stazione di una grande metropoli. È un Gesù che vuole metterci di fronte a nuovi peccati, per così dire. È un Gesù che non perdona, che non porge l'altra guancia e che si indigna, si vergogna davanti a chi commette il male consapevolmente. I prossimi progetti di Simone Cristicchi, anche per quest'anno, si possono già annunciare? Sì, sono attualmente in tournée con il mio nuovo spettacolo, che si intitola Il Secondo Figlio di Dio, che sarà anche in Friuli, a Monfalcone, a Grado, a Trieste, ed è uno spettacolo che mette al centro la spiritualità e la voglia di ripensare un po' il mondo in cui viviamo, attraverso le idee, le profezie e le istanze di questo eretico pazzo visionario, il profeta di Arcidosso, David Lazzaretti. Magazzino 18, Orcolat 76, questo è un ulteriore spettacolo sul territorio friulano, seguitissimo. Che percezione ha lei di questo dialogo, di questo rapporto con il territorio? È un rapporto quello col Friuli Venezia Giulia, che è cresciuto anno dopo anno, grazie soprattutto a Walter Sivilotti, a questo straordinario compositore musicista che mi affianca nelle mie disavventure. e devo dire che con Orcolat 76 c'è stato un vero e proprio matrimonio tra Simone e il Friuli perché lo spettacolo ha provocato un'enorme ondata, uno tsunami di emozione in chi l'ha visto e sono sicuro che avrà anche un prosieguo perché verrà allestita una versione per i teatri più piccoli e avrà modo comunque di girare, di raccogliere anche tanto altro affetto. Grazie.